Parliamo di alcuni video molto visti in questo momento su YouTube e il primo che si nota oggi 15 febbraio, the day after San Valentino, è niente poco di meno che un video di Rubi Rubacuori che fa la pubblicità a dei libri di Marra, uno scrittore e questa pubblicità tradotta mi sembra anche in vari lingue, grande successo di audience su YouTube, si vede appunto un uomo mascherato che sveste Rubi Rubacuori che rimane in bichini e fa questo annuncio pubblicitario.